10.000 persone da tutto il nord Italia si sono contate tra sabato e domenica a Grazzano Visconti, nel comune di Vigolzone, uno dei luoghi prettamente turistici della nostra provincia che si conferma essere il borgo dei record in questo inverno. L'iniziativa dei mercatini di Natale è ripresa il 20 novembre scorso, dopo la sospensione a causa del covid e quest'anno fa il pienone ogni fine settimana. Anche ieri una folla si è riversata nelle vie del borgo, tra la corte vecchia e il castello, tra la chiesa e le suggestive piazze. I parcheggi erano pieni, qualcuno ha parcheggiato, come capita non di rado, a Maiano. Qualche coda, qualche disagio, ma per i commercianti e i ristoratori questi mercatini sono un aiuto concreto dopo due anni davvero difficili. A Grazzano i bambini trovano Babbo Natale nella sua casa e tanti giochi natalizi, mentre per gli adulti le bancarelle dove acquistare i regali non mancano, tanto quanto non mancano gli angoli per scaldarsi mani e spirito. E ieri hanno trovato anche la musica gospel che fa tanto festa. Tipico eventi, l'organizzatore dei mercatini ha voluto anche quest'anno le New Sisters di Podenzano, che con le loro belle voci hanno scaldato il pomeriggio di Grazzano, rendendo l'atmosfera ancora più suggestiva.